Dagli sport acquatici all'escursionismo in montagna, dalla mountain bike alla canoa. Il sole e il mare dell'elba assicurano agli amanti dello sport un microclima particolarmente mite. Strutture attrezzate e a portata di mano e chi volesse dedicarsi alla cura del proprio corpo e al benessere può sempre rifugiarsi alle terme di San Giovanni, che si affacciano sul golfo di Portoferraio. Un luogo dove relax e ambiente diventano sinonimi. Grazie per la visione!